Altro lutto per l'industria IFI, Fulvio Tonti muore tre mesi dopo il padre Gianfranco. D'agosto Rocca Costanza tornerà ad aprirsi alle visite guidate. Consumo responsabile dell'acqua, ora c'è pure uno spot che gira per la città di Pesaro. Nella giornata di prevenzione all'annegamento, Pesaro bandiera blu del mare sicuro. Il porto strangolato dalla burocrazia, il caso del club nautico chiuso da mesi. Una buona serata a tutti voi amiche e amici di Rossini TV, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con l'informazione serale di Rossini News. Telegiornale del nostro canale 80 che in questa edizione di giovedì 25 luglio apriamo dandovi notizia di un lutto improvviso che ha colpito oggi l'imprenditoria pesarese e che in particolare colpisce di nuovo l'industria pesarese IFI e la famiglia Tonti. A tre mesi dalla scomparsa del suo ex presidente Gianfranco Tonti è morto anche il figlio Fulvio Tonti venuto a mancare in seguito ad un infarto. Fulvio Tonti che abitava a Cattolica e che aveva compiuto 50 anni appena due giorni fa e insieme alla sorella Francesca stava gestendo nel segno della continuità familiare il colosso industriale della refrigerazione con sei unità produttive e 340 dipendenti. Cambiamo argomento e parliamo di Rocca Costanza che è pronta a riaprire alle visite guidate nell'estate di Pesaro capitale della cultura. Il sindaco Biancani ha infatti ufficializzato che dai primi di agosto torneranno accessibili al pubblico parte degli spazi di uno degli edifici simbolo della città ovvero il chiostro, l'antica cappella e locali adiacenti insieme ai suoi freschi e al bastione che affaccia la zona mare. L'ok è arrivato dopo il sopralluogo alla Rocca effettuato dai tecnici del comune assieme agli esponenti del demanio e dell'archivio di Stato. La pioggia caduta a Pesaro lunedì scorso ha dato un lieve calmante ad una situazione di approvvigionamento critico che resta comunque critica sul territorio. Per andare verso un consumo responsabile d'acqua ora il comune è pronto ad una strategia molto particolare che andiamo a scoprire in questo servizio. Andiamo a dire a tutti della nostra missione antistreco. Dobbiamo smettere di annacchiare gli orti, i giardini e i prati. Giusto! E chiudere il rubinetto mentre ci laviamo i denti e ne saponiamo sotto la doccia. Uno spot per sensibilizzare i cittadini a non sprecare l'acqua. Un messaggio per comunicare l'importanza della risorsa idrica. Questa l'iniziativa promossa dal comune di Pesaro che grazie al contributo della protezione civile e alle voci di due giovanissimi attori della piccola ribalta proverà a far comprendere di come l'emergenza idrica stia ormai diventando normalità. Per cui c'è bisogno che tutti facciano la propria parte per contrastare questo fenomeno. Abbiamo presentato questa nuova campagna comunicativa che partirà oggi e che faremo in tutti i quartieri della città. Una campagna che ha l'obiettivo di sensibilizzare e far capire a tutti i cittadini che la risorsa idrica è una risorsa preziosa, che non è infinita e che quindi va risparmiata e utilizzata con parsimonia. L'acqua è importante, l'acqua è vita, l'acqua soprattutto non si può comprare perché se dovesse mancare l'acqua veramente non è possibile comprarla facendola arrivare con i camion. La quantità d'acqua che serve quotidianamente è veramente tantissima. Ne consumiamo circa quasi mille litri al secondo, quindi pensate cosa potrebbe essere non avere l'acqua. Quindi questa è una campagna dove abbiamo deciso di utilizzare due bambini, due bambini che fanno parte della compagnia della piccola ribalta, che grazie alle loro voci lanceranno un messaggio di sensibilizzazione e di risparmio di questa preziosa risorsa. Faremo tutti i quartieri, andremo in tutti i quartieri della città, ma anche nei borghi, Novilara, Candelara, Ginestreto, Borgo Santa Maria, Colombarone, Monte Cicardo. Quindi andremo in tutta la città perché per la prima volta vogliamo lanciare una campagna comunicativa importante, ma anche che non deve essere un allarme e per questo abbiamo utilizzato voci di bambini. Ma vuole essere un'azione chiara di sensibilizzazione e un gesto concreto rispetto a questo che è un problema che sicuramente dovremo affrontare in maniera decisa anche per i prossimi anni. Il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, ha poi parlato di un tavolo di confronto che lui stesso ha richiesto per la giornata di domani in prefettura, dove saranno presenti tutti gli enti competenti, affinché anche da parte di questi ultimi e delle autorità ci si attivi al meglio per combattere la crisi idrica. Innanzitutto ringrazio il prefetto che ho fatto appunto questa richiesta alla prefettura di convocare questo tavolo con tutti i soggetti, da Enel, Regione, le varie autorità competenti, la provincia, perché ritengo che sia giunta l'ora di fare delle scelte. Finora abbiamo più o meno scherzato, con l'acqua non si scherza e quindi le decisioni vanno prese, vanno prese in maniera decisa perché non si può ogni anno andare in emergenza, prima o poi andremo a sbatterle in muso e quindi dove l'acqua mancherà seriamente. Ma il vero problema è che chi si sta occupando di questo problema in maniera forte è il sindaco di Pesaro che probabilmente è l'ultima città alla quale verrà chiusa l'acqua, quindi potrei stare benissimo tranquillo perché so benissimo che chiudere l'acqua a Pesaro con la quantità di turisti che ha sarebbe quasi impossibile, però mi sembra importante invece che si trovi una soluzione perché anche le zone del nostro entroterra hanno diritto ad avere l'acqua. Attualmente mi risulta che sono 15 i comuni della provincia di Pesaro Urbino dove l'acqua viene già portata con le autobotti, questa cosa penso che sia veramente insostenibile anche dal punto di vista economico perché le autobotti che girano le stanno pagando tutti i cittadini. Controllare che i rubinetti di casa siano completamente chiusi, insomma limitare sempre l'uso dell'acqua. Così possiamo ridurre il consumo di questa risorsa e contribuire anche da Pesaro a difendere il mondo. Iniziamo oggi stesso! L'acqua è poca, non sprechiamola! E proprio in questo periodo critico dal punto di vista del risparmio idrico si è registrata una rottura dell'acquedotto nella zona pesarese fra via Pantano e via Madonna di Loreto. La segnalazione di allagamento è arrivata attorno alle 8.30 e alle 13.30 si è completato l'intervento dei tecnici di Marche Multiservizi che hanno dovuto rompere la sede stradale per arrivare all'origine del guasto della conduttura vetusta e risalente agli anni 70. E dalle acque da preservare andiamo alle acque del mare di Pesaro, mare sicuro per i bagnanti come si è voluto ricordare in questo 25 luglio che è la giornata per la prevenzione all'annegamento. Vediamo il servizio. Ricevere il riconoscimento della bandiera blu non significa solo avere acque pulite o spiagge attrezzate di servizi, significa pure disporre di un mare sicuro. Lo ribadisce il 25 luglio, giornata per la prevenzione contro l'annegamento istituita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Una giornata in cui oggi Pesaro ha messo in mostra i suoi dispositivi di prevenzione e sicurezza in mare. Nella spiaggia sottomonte del circolo velico ardizio è andata infatti in scena una giornata di dimostrazioni di salvataggio di bagnanti con operazioni di soccorso orchestrate in sinergia fra Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco e gli stessi bagnini. Non solo, anche simulazioni di salvamento con cani addestrati e la Croce Rossa che ha portato in spiaggia le sue dimostrazioni di primo soccorso. L'amministrazione di Pesaro aderisce a questa giornata organizzata dalla Foundation for Environmental Education perché il criterio della sicurezza è uno di quelli richiesti in via imperativa per ricevere il riconoscimento della bandiera blu. È una giornata che si svolge in contemporanea in tutte le città d'Italia e abbiamo avuto una grande adesione appunto da tutti gli attori e portatori di interesse con la regia della Capitaneria di Porto abbiamo la Croce Rossa italiana, il 118, la protezione civile si svolge qui presso il circolo velico e per quanto riguarda l'amministrazione, in particolare l'assessorato all'ambiente che segue questo tipo di riconoscimento è un momento anche di informazione e di formazione culturale essenziale per far capire cosa vuol dire avere un riconoscimento come quello della bandiera blu dietro al quale sta il rispetto di una serie di criteri di qualità che una città balnearia deve avere. Collaboriamo tutte le stati anche assieme ad altre associazioni di volontariato proprio per la prevenzione in mare quindi o sulle spiagge o con il nostro gommone, con le nostre unità cinofile a bordo pattugliamo i tratti di mare che ci vengono assegnati dalla Capitaneria e che sono ritenuti più pericolosi e ovviamente c'è una grande preparazione dietro il cane è di grande aiuto e di supporto per aiutare il bagnino a risparmiare energie e ad aiutarlo nelle operazioni di salvataggio i cani che più si prestano sono quelli che in generale amano l'acqua o sono cani come i retriever o comunque i cani che hanno le zampe palmate che nuotano ovviamente già bene Terranova, Golden, Labrador però ecco, qualunque cano e noi ci sono capitati anche cani del canile, metici o cani di razze particolari come i pastori che di solito fanno tutt'altro possono essere addestrati a questo tipo di attività l'importante è l'addestramento, la formazione e il lavoro che c'è dietro Dipende molto dalla bandiera quando c'è la bandiera bianca indica una situazione sicura e quindi la balneazione è molto tranquilla mentre con la bandiera rossa abbiamo tutta un'altra situazione ovvero molto più pericolosa dove anche noi siamo molto più attenti perché comunque si possono incontrare situazioni molto pericolose come la risacca e le scogliere che possono comunque diventare pericolose e i materassini e tutte le cose che galleggiano che sembrano un divertimento ma in una situazione di mare mosso e bandiera rossa sono molto pericolose Oggi abbiamo visto un intervento degli operatori Opsa sono gli operatori che fanno soccorso in ambiente acquatico quindi sia in mare che in ambiente fluviale e a Pesaro noi operiamo con due moto d'acqua e un'idroambulanza quello che abbiamo visto è un soccorso di un cittadino che ha avuto un malore, nello specifico un arresto cardiocircolatorio quindi un intervento con il defibrillatore tutti i nostri operatori sono abilitati all'uso del defibrillatore e ovviamente gli operatori Opsa sono anche soccorritori che operano sull'idroambulanza il cittadino deve sapere uno che ha a disposizione il numero unico di emergenza che è il 112 e che chiunque può fare un corso per l'utilizzo del defibrillatore quindi chiunque di noi può essere utile nel caso in cui si verifichi questo evento tragico la Croce Rossa di Pesaro organizza dei corsi specifici e tra l'altro Pesaro essendo città cardioprotetta è disseminata di defibrillatori quello che dobbiamo fare è diffondere la cultura e formare la cittadinanza nel prossimo consiglio comunale il gruppo consigliare di centrodestra chiederà l'istituzione di una commissione di inchiesta in merito ai fondi erogati dalle comune alle associazioni opera maestra e stella polare sulle quali continuano a emergere gravi incongruenze come sottolineato ai nostri microfoni dalla segretaria pesarese di Fratelli d'Italia Serena Boresta è una situazione gravissima perché ad oggi non abbiamo giustificazione di come sono stati impiegati i danari che sono stati assegnati a queste associazioni no profit il tutto era partito e già lo dicemmo in occasione della conferenza stampa della scorsa settimana con la delibera di spesa relativa ai lavori di straordinaria manutenzione e di riqualificazione del verde di piazzale d'annunzio in questa occasione le dichiarazioni rilasciate nell'ordine dal sindaco dall'assessore ai lavori pubblici e dal dirigente comunale lasciavano a dir poco senza parole perché il sindaco dichiarava di non conoscere l'associazione né il titolare l'assessore ai lavori pubblici ha dichiarato di non sapere nulla il dirigente comunale ha dichiarato di non sapere come sono stati impiegati questi 53 mila euro e di non avere alcuna rendicontazione questo si è poi aggravato ulteriormente con la venuta conoscenza di altre due delibere una del 2022 e una del 2023 relativa alla realizzazione di un jukebox in via San Francesco per oltre 60 mila euro e di questo anche di questo non vi è traccia quindi non avendo giustificazioni di questi danari pubblici di come siano stati impiegati tutto il gruppo consigliere di opposizione ha deciso di presentare una mozione per l'istituzione di questa commissione d'inchiesta commissione d'inchiesta tesa chiaramente ad evidenziare e a fare indagini e ricerche per fare chiarezza su queste criticità e su queste grosse e gravi incongruenze ci auguriamo che anche i consiglieri di maggioranza proprio perché si tratta di una questione di importante interesse pubblico aderiscono all'istituzione di questa commissione per fare chiarezza però sul punto della commissione d'inchiesta come diceva lei c'è bisogno anche della maggioranza perché va approvato in consiglio comunale nel qual caso non venisse approvata? nel qual caso non venisse approvata noi comunque andremo fino in fondo alla vicenda e in ogni caso procederemo anche laddove fosse necessario a dire le opportune sedi giudiziarie un cortocircuito di burocrazia e competenze sta paralizzando alcune attività delle porto di Pesaro una di queste è il club nautico sul quale si è esposto con un appello all'autorità portuale lo stesso sindaco Andrea Biancani ostacoli burocratici in termini di autorizzazioni e competenze in tema urbanistico continuano periodicamente a paralizzare alcune attività del porto di Pesaro caso emblematico sollevato dal sindaco Biancani è quello del club nautico la cui attività di ristorazione è chiusa da mesi in seguito al passaggio di competenze nel rilascio delle autorizzazioni dalla capitaneria di porto all'autorità portuale autorità che nel caso del club ha negato alcuni lavori di ampliamento della struttura ritenendoli abusivi nonostante il precedente ok rilasciato in termini di conformità urbanistica io devo dire che c'è la massima voglia di collaborare da parte dell'amministrazione comunale nei confronti dell'autorità portuale però ritengo veramente incomprensibile questa cosa che dopo aver fatto addirittura un incontro ormai più di un mese e mezzo fa dove dovevamo in qualche modo individuare una soluzione a tutt'oggi la soluzione non c'è io penso che lasciare chiuso un club nautico che è ovviamente prettamente un'attività estiva per problemi burocratici sia incomprensibile incomprensibile perché il fatto che l'autorità portuale non riconosca le autorizzazioni già rilasciate oltre 15 anni fa da un ministero perché quella volta le autorizzazioni venivano rilasciate direttamente dalla capitaneria che era autorità competente ed era la responsabile del procedimento quindi il ministero che è lo stesso ministero dell'autorità portuale rilascia delle autorizzazioni che 15 anni dopo vengono messe in discussione questa cosa è inconcepibile ho chiesto all'autorità portuale, capitaneria e agli uffici di comune di risolverla se non si risolve sono pronto sia a scrivere all'ammiraglio regionale per dire che non viene riconosciuto quello che è il lavoro e le autorizzazioni date dalla stessa capitaneria che è il ministero dei trasporti o se non riescono a risolvere neanche a livello regionale sono pronto a scrivere al ministro e al ministero perché questa situazione non può perdurare così a lungo voglio anche ricordare che il problema non è del club nautico il problema è di oltre 15 attività presenti oggi nel porto di Pesaro e chiunque di queste dovesse fare una richiesta gli verrebbe detto che il proprio edificio è abusivo e questa cosa è inconcepibile Nuovi fondi per il credito alle imprese marchigiane nuove opportunità che la regione Marchi ha presentato ieri sera presso la Mediateca Montanare di Fano Nel suo tour fra le province marchigiane la regione sceglie la Mediateca Montanare di Fano come location designata per presentare alle province di Pesaro Urbino il fondo nuovo credito fondo partito a gennaio con una dotazione di 20 milioni di euro già richiesti integralmente dalle imprese in due mesi di apertura e ora rifinanziati con altri 9 milioni e mezzo che serviranno a completare le domande rimaste in evase aprendo altre opportunità a sostegno non solo del credito ma anche della capitalizzazione di impresa, del settore energia e di quello agricolo Un bando da oltre 20 milioni di euro dove c'è una copertura a fondo perduto del 30% o 20% a seconda se piccole e medie imprese o grandi imprese e del 70% o 60% a seconda appunto sempre se PMI o grandi imprese per quanto riguarda proprio lo strumento finanziario per arrivare per le PMI addirittura una copertura del 100% a fondo perduto tasso zero di interesse quindi importante perché vogliamo sostenere e sviluppare delle politiche energetiche di sostenibilità ambientale e fondamentali soprattutto per le nostre imprese in questo momento e in più anche sempre strumenti finanziari a sostegno di altri interventi come quello sull'internazionalizzazione, sulle start-up e la novità assoluta anche sull'agricoltura quindi entro la fine dell'anno uscirà un bando per sostenere dal punto di vista proprio di agevolazioni strumenti finanziari e bancari anche il settore agricoltura negli investimenti ed è veramente una grande grande novità Dei dati che ci hanno trasmesso la Banca d'Italia relativamente all'anno 2023 c'è una caduta degli impieghi bancari nei confronti delle imprese e dico anche e soprattutto delle piccole e medie imprese un dato su tutti pensate che a tutt'oggi su 225 comuni delle Marche 70 comuni non hanno più uno sportello bancario questo è un dato allarmante Altra cosa che volevo dirvi, noi a gennaio di quest'anno siamo usciti con una misura per il credito quindi abbattimento del tasso di interesse, il 4% a carico delle regioni, il resto alle imprese e il costo della garanzia a nostro carico abbiamo pensato, abbiamo messo a disposizione una somma di 28 milioni virgola 3 20 milioni come vi ho appena detto con un bando che è uscito a gennaio gli 8 e 3 però abbiamo cambiato destinazione perché usciremo con un bando a cavallo tra dicembre e gennaio dicembre 24 e gennaio 25 sulla capitalizzazione però siamo riusciti dai fondi che ci sono rientrati dalle garanzie e anche da alcune economie a emanare un bando che emaneremo a metà fine settembre per 9 milioni 700 mila euro questo è un bando importante è un bando che sicuramente aiuterà non solo le nuove domande ma soddisferemo le imprese che nel bando di gennaio erano rimasti fuori per mancanza di finanziamenti pensate che siamo usciti con il bando al 29 gennaio a metà febbraio già erano arrivate 2000 domande che superavano i 20 milioni di euro che avevamo messo a bando e con questa misura di 9 milioni e 7 noi riusciremo a pagare tutte quante le domande che erano state in evase devo dire che già da consigliere regionale ho seguito la prima tranche dei 20 milioni sul credito che è stata una grande risposta che la regione ha voluto dare alle piccole e medie imprese oggi presentano la seconda tranche con ulteriori 10 milioni all'interno della programmazione 21 e 27 quindi un modo per dare aiuto alle piccole e medie imprese che sicuramente vivono un periodo difficile ma che la regione Marche attraverso appunto i fondi europei riesce a dargli una risposta importante io come sindaco oggi del comune di Fano ringrazio la regione per aver scelto questa sede ovvero la Memo, la Mediateca Montanari per presentare alle aziende, alle imprese e cercare anche di cogliere eventuali suggerimenti proposte per migliorare i bandi la nuova tranche di bandi arriva sull'onda del forte riscontro positivo registrato nelle imprese marchigiane verso questo tipo di opportunità siamo la quarta regione in Italia sul Port Feser la seconda sulle FSE su fondi strutturali e su fondi di sviluppo nella nuova programmazione per quantità di risorse immesse nei bandi ma lo siamo primi in assoluto in Italia in rapporto al numero degli abitanti e al numero delle imprese quindi la regione Marche è la prima regione in Italia a sostenere attraverso i propri bandi le imprese perché sappiamo che è fondamentale preparare ora quel percorso che poi si tradurrà ovviamente in progetti realizzati nei prossimi mesi per aumentare quel grado di competitività assolutamente fondamentale oggi per le imprese per stare sul mercato in maniera stabile e strutturata Il tenente Alessandro Achilli sarà il nuovo comandante della Guardia di Finanza di Fano in sostituzione del Maggiore Francesco Rizzo trasferito presso il nucleo di polizia economico-finanziaria di Vicenza dopo quattro anni alla direzione di complesse indagini di polizia giudiziaria ed economico-finanziaria nel territorio fanese Il neocomandante Achilli, 28enne originario della provincia di Viterbo proviene dal gruppo di Lodi dove è rivestito il ruolo di comandante del nucleo operativo E restando su Fano, questa mattina il sindaco Ser Filippi ha nominato i propri quattro rappresentanti del nuovo consiglio di amministrazione di Aset S.P.A. Alla guida della società ci sarà il nuovo presidente Giacomo Attioli affiancato dal vicepresidente Maria Antonia Rita Cucuzza e dai consiglieri Francesca Fiorelli ed Enzo Di Tommaso Ed ora vi segnaliamo che le telecamere di Rossini TV parteciperanno domani, venerdì 26 luglio, alle 17.30 all'inaugurazione della mostra personale di ceramica di Maria Moretti Barbarini La mostra promossa dal centro culturale Maria Rossi sarà visitabile alla Galleria Rossini in via Rossini a Pesaro fino al 30 di luglio Ed ora lo sport è stato reso noto il calendario del campionato di Serie A1 femminile di Pallavolo in cui è impegnata la Megabox Vallefoglia Sono previste 26 giornate di regular season fra il 5 ottobre e il 1 marzo Per la Megabox il campionato inizierà con due trasferte prima le 6 ottobre a Firenze poi il 13 ottobre a Perugia prima casalinga al Palamegabox di Pesaro il 20 ottobre contro Busto Arsizio E quella di oggi è stata anche una giornata di encomi sportivi conferiti dal consiglio regionale alla squadra di Kingi Baskin di Fermignano campione d'Italia 2023 e all'atleta pesarese nonché ex consigliere comunale Emanuele Gambini protagonista di numerose vittorie in diverse specialità delle Pentathlon La consiglia di riconoscimento è avvenuta nel corso di una cerimonia Palazzo delle Marche alla quale sono intervenuti anche il presidente Dino Latini e consiglieri regionali Baiocchi, Vitri, Giacomo Rossi e Giovanni Dall'Asta Questo weekend sabato e domenica a Tavuglia torna l'appuntamento con il Castello Magico due giorni all'insegna della magia che approfondiremo questa sera in uno speciale dedicato ma del quale vi diamo alcune anticipazioni in questa intervista Abbiamo dal mago elegante, classico, col frac che fa apparire Candide Colombe dai fazzoletti che è quello che fa sognare un po' il pubblico e poi abbiamo il pickpocket che è quello che ti frega i portafogli ti porta via la cravatta, gli occhiali senza farti accorgere abbiamo le grandi illusioni grandi illusioni si intende tutta la magia che viene fatta con delle grosse casse dove ci sono donne che vengono tagliate rimangono sospese eccetera quindi anche qui avremo Van Denon e Nicole che è una coppia di professionisti di altissimo livello che gira il mondo con le grandi illusioni che loro faranno poi la conclusione del gran gala poi ci sarò io, ci sarà la magica Gilly che lei anche ormai è di casa qui al castello magico e poi il lucchettino che loro faranno tra un mago e l'altro faranno i loro intermezzi comici quindi diciamo per far ridere e divertire il pubblico poi avremo la manipolazione tutto ciò che è dovuto quasi esclusivamente alla destrezza di mano e qui avremo Mirko che Mirko è uno dei più grandi professionisti italiani tra l'altro è stato anche insegnito di maestro di magia e con lui farà manipolazione dove vedrete palline, carte, candele accese che appariranno, scompariranno come niente fosse in mano e quindi sicuramente è uno spettacolo da vedere dopo invece la domenica sera abbiamo un one man show un one man per modo di dire perché è una coppia di artisti anche lì veramente internazionali dove vedrete non solo magia ma ci sarà magia, comicità, giocoleria, equilibrismo sarà tutto un mix veramente particolare e un'altra cosa importante è che la magia non la vedrete solamente ma chi vuole la può anche apprendere perché sia sabato sera che domenica sera ci saremo io e Magica Gilli una sera mi pare sabato nei panni del mago di Oz e Dorothy e invece la domenica Harry Potter e Hermione dove insegneremo ai bambini ma non solo i bambini anche agli adulti chi vuole per fare dei giochi di magia prenderemo dei giochi di magia quindi sarà una scuola di magia se vogliamo avere proprie dove consegneremo poi anche un diploma ma non finisce lì perché poi chi vuole approfondire avremo anche due bancarelle che vendono giochi, trucchi di magia perché ovviamente per fare magia a volte ci vogliono anche dei trucchi delle cose preparate apposta che magari non sempre si possono fare a casa allora si prendono degli attrezzi già pronti quindi chi si vuole sbizzarire si può anche improvvisare mago e si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini TV come vi anticipavamo poc'anzi proprio il Castello Magico di Tavuglia sarà oggetto del nostro speciale d'approfondimento in prima serata alle 21 e 20 vi ricordo due giorni di magia il 27 e il 28 luglio con il Castello Magico andremo a scoprire altri dettagli nello speciale realizzato da Paolo Pagnini e poi naturalmente vi aspetto domattina in diretta alle 7.20 con Buongiorno Rossini il nostro consueto appuntamento con la rassegna stampa dei quotidiani locali e si conclude invece qui l'appuntamento informativo di Rossini News vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi